Che relazione c'è tra i sintomi della donna incinta e la sua emotività? Ciao, io sono Desiree, lei è Martina e lui è Emiliano. Nella donna in gravidanza abbiamo varie modificazioni posturali, tra cui ad esempio nel diaframma, e queste possono anche coinvolgere una sfera psicofisica, tanto è vero che dalla respirazione può dipendere molti aspetti anche di ansia. In questo caso l'approccio della psicologa e della psicoterapeuta può essere fondamentale. Sì, perché in gravidanza nascono tanti timori, tante paure, sicuramente anche tante gioie, e questa cosa viene vissuta nel corpo. Se io sono spaventata, tendo a contrarre e questo può influire la respirazione e di conseguenza, quello che dicevi tu sul diaframma, questo può avere delle modificazioni. E tu? Hai avuto paura o ansia durante la tua gravidanza? Raccontalo qui sotto.